Qual è la qualità di istruzione di qualità? In Italia, grazie all'accordo MIU-RASVIS, nello scorso anno sono stati avviati all'educazione e allo sviluppo sostenibile 33.000 nuovi insegnanti in ingresso nella scuola italiana. Sono anche in atto delle misure di sostegno alla formazione dei docenti in servizio su questo tema. Grazie. 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 Grazie.